Negli ultimi giorni sono stati dei problemi per quanto riguarda la non perfetta educazione da parte degli utenti, per quanto riguarda la consegna dei rifiuti. Questo periodo di noviziato sta finendo? Le cose come stanno adesso? Innanzitutto credo che fosse normale un primo momento iniziale di difficoltà sia da parte dei cittadini, da parte dell'azienda ma anche da parte dell'amministrazione comunale per gli aspetti organizzativi di un nuovo ciclo di raccolta differenziata. Il risultato importante è raggiunto in questi mesi, soprattutto nel mese di giugno, noi abbiamo effettuato e raggiunto un risultato importante che si attesta intorno al 55% di raccolta differenziata a fronte del 40% di raccolta differenziata che abbiamo raggiunto nei mesi passati. Quindi è un primo risultato importante che è il vero senso della raccolta differenziata e quindi riteniamo che con alcuni miglioramenti che andremo ad apportare nelle prossime settimane in merito al cambiamento di calendario di conferimento, questo sicuramente faciliterà i cittadini a effettuare un miglior conferimento alla raccolta differenziata e questo soprattutto aiuterà a raggiungere quell'obiettivo standard che è del 65% della raccolta differenziata. Resta lo zoccolo duro dei proprietari dei cani, i quali nonostante i limiti del comune, nonostante gli appositi contenitori messi in città, vengono utilizzati per altri usi e comunque quelli che portano i cani in giro per la città, pochissimi sono muniti degli attrezzi proprio per la raccolta degli escrementi. Noi come amministrazione abbiamo creato l'opportunità che riguarda i raccoglitori per le direzioni canine, poi ad ognuno di noi spetta il senso civico che dovrebbe distinguere poi la città di sé.